Tutti i negativi tamponi effettuati ai sanitari ieri mattina presso il reparto USCA, unità speciali continuità assistenziale del presidio agropolese venuti a contatto con il 53enne residente ad Ogliastro Cilento che è risultato positivo al covid nella giornata di martedì mattina. Ora bisognerà attendere l'esito dei tamponi che sono stati effettuati sui cittadini del comune di Ogliastro Cilento che hanno avuto contatti stretti con il 53enne. Un sospiro di sollievo per i medici e il personale sanitario della struttura ospedaliera agropolese. L'uomo i primi di agosto era stato dimesso da una struttura ospedaliera nella città di Milano dove si era recato per degli accertamenti. Il 53enne asintomatico martedì dopo aver accusato dei problemi di salute si è recato in pronto soccorso presso l'ospedale di Agropoli. In seguito a ciò è stato ricoverato nel presidio per problemi personali di salute e come da prassi è stato sottoposto a tampone del quale due giorni fa si è venuti a conoscenza del risultato.